Un cordiale saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'approfondimento quotidiano a cura della redazione giornalistica in video verità socchi puntati sulle imminenti amministrative nella città di Barletta. Il 12 giugno i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco della città della disfida, il nuovo consiglio comunale. Ospite oggi nei nostri studi il candidato sindaco per sostenuto da una coalizione di centrodestra e liste civiche, il dottor Cosimo Cagnito. Ben ritrovato dottor Cagnito. Grazie, buongiorno e grazie per l'invito. Una settimana al voto ormai si può dire. Quali sono gli umori che state registrando? Io percepisco intorno alla mia persona e intorno alla mia coalizione un atteggiamento positivo, di grande sostegno e questo mi rincuore, mi dà coraggio e mi dà forza. E mi sprono ad andare avanti a parlare con i cittadini e a comunicare con loro e ad ascoltare le loro richieste e la loro visione di città. Secondo lei i cittadini hanno compreso che cosa è successo qualche mese fa? Io penso di sì, questo è accaduto esattamente otto mesi fa, quando un manipolo di personaggi politici che nulla hanno a che fare con l'interesse pubblico, ma hanno solo a che fare con l'interesse privato, hanno deciso di sfiduciarmi, non perché io avessi rubato, non perché io avessi violato la Costituzione, non perché io avessi fatto infiltrare malavitosi all'interno dell'amministrazione, ma solo perché non rispondeva ai loro desiderata. I cittadini questo lo hanno capito, perché questo è il terzo sindaco che è un signore, un consigliere regionale della nostra città che ama fare questi scherzi alla città, prendendosi i voti dei nostri cittadini e portandosi a Bari e mercanteggiando su quei voti, hanno capito che questo signore la deve smettere di fare questi giochi politici e quindi io credo che i cittadini siano pronti a cambiare questa volta e a dire basta a quello che accade da vent'anni a questa parte e quindi sono sicuro che i cittadini mi conforteranno, mi sosterranno e mi proporranno come sindaco della nostra città. Anche i toni iniziano ad alzarsi in questa campagna elettorale, come tutte le campagne elettorali, che cosa ne pensa? È normale che i toni durante la campagna elettorale si elevino perché ognuno cerca di portare acqua al proprio mulino e propaganda, però noto soprattutto dalla coalizione e dalla scommegna un certo nervosismo e noto anche un certo nervosismo dalla parte della stessa candidata che non ha argomenti, che si attacca ad argomenti futili, dimenticando che lei per vent'anni è stata la dirigente dei nostri servizi comunali. Perché ha fatto la dirigente ai servizi sociali, ha fatto la dirigente al suo, ha fatto la dirigente alla cultura. Se questi sono i risultati, dopo vent'anni, se dovesse davvero diventare sindaco, mi auguro di no ovviamente, credo che rivedremo lo stesso scenario, lo stesso comportamento di fallimento dei suoi vent'anni di attività di dirigente. Dirigente che è stata sempre nominata, non ha mai avuto un concorso, non ha mai superato un concorso pubblico, è stata sempre nominata dai vari sindaci che si sono fidati di lei ma che sono stati puntualmente ingannati dal suo comportamento di islealtà diffusa. C'è qualcosa che si rimprovera della scorsa amministrazione? Io non devo rimproverarmi nulla, perché sono una persona che ha fiducia nella gente e ho avuto fiducia nei consiglieri comunali, ho dato loro tutta la mia fiducia. Più che deluso sul piano politico sono deluso sul piano umano, perché io non ho avuto rapporti con loro di natura politica, io ho avuto con loro rapporti di natura umana e mi sono anche a volte spesso professionalmente nei loro confronti. Questa è la mia amarezza e anche nei confronti della scommegna io ho avuto un atteggiamento di natura amicale ed umana, evidentemente mi sono sbagliato, ma è una politica che io, se quella è la loro politica non è la mia politica, la mia politica è quella di agire per il bene comune e quindi credo che i cittadini queste cose le riconoscono. Io ho una fotografia, peccato non l'ho portata, dove io faccio una carezza alla dottoressa Scommegna, nel momento in cui lei viene nominata cavaliere del lavoro. Questa è un'immagine davvero significativa del mio rapporto con la scommegna, il rapporto evidentemente è stato tradito dalla persona. Parlando un po' al programma elettorale del candidato sindaco Cosimo Cannito, quali sono i punti salienti? L'ambiente, abbiamo detto, l'abbiamo messo al primo punto dell'ordine del programma, poi abbiamo lo sport, poi abbiamo l'urbanistica, dobbiamo assolutamente approvare il piano urbanistico generale perché la bozza era già pronta per essere approvata e per essere portata all'attenzione dei portatori di interesse e quindi era necessaria la compartecipazione e la copianificazione con gli ordini degli ingegneri, degli architetti, con i commercialisti, con gli avvocati, con i cittadini, con le associazioni, con le parti politiche anche. Io credo che tutto sommato uno dei motivi per i quali mi hanno mandato a casa è proprio perché questo Pug non vogliono vederlo, non hanno interesse a fare il Pug perché probabilmente amano le varianti a posto del piano urbanistico generale. Io ho questo sospetto e lo dichiaro, però nel caso in cui io dovesse avere la responsabilità della città riprenderò in mano il Pug e lo porterò a compimento e a questo punto voglio ancora ricordare che io da otto mesi non sono più il sindaco della città e che per un anno e mezzo ho dovuto lavorare, amministrare con il dramma del Covid che non è una cosa di poco conto e non è stato affatto leggero nell'amministrare una città con questa spada di Damocole, con questo dramma umano, economico e diciamo cittadino perché davvero abbiamo sofferto molto durante il Covid. Se ritorni nel caso in cui dovesse tornare a Palazzo di Città, qual è la prima cosa che farà? Ci sono delle priorità immediate che possono essere soddisfatte in maniera veloce. Le strade per le quali la scommegna ricama atteggiamenti davvero paradossali e incredibili, assurdi per una dirigente e questa la dice tutta sulle sue capacità professionali, quindi le strade che si stanno già in parte si stanno riasfaltando lo stadio, ho detto prima poc'anzi il Pug, potenziamento ulteriore dei servizi sociali, rilanciare l'inturismo soprattutto cucire di Ponente, litorane di Levante, dare certezza agli operatori del settore balneare. Noi abbiamo fatto una delibera di giunta che procrastinava le concessioni al 2033, purtroppo un sindaco di Lecce ha fatto ricorso al Tar, al Consiglio di Stato e l'ha avuta vinta e questo ha messo in discussione le attività di questi gestori. Ieri il Ministro del Turismo, Garavaglia, che ringrazio di essere venuto, ha un pochino tranquillizzato gli operatori dicendo loro che laddove la conduzione è familiare, bene, là non ci saranno problemi e siccome la conduzione è familiare, i Lidi hanno una conduzione familiare per circa intorno al 70%, 75%, io credo che questo argomento darà loro sicurezza, certezza e tranquillità. Ecco, il turismo, parliamo proprio del turismo che è comunque il motore trainante dell'economia del Sud Italia. Barletta non può rimanere, non può restare fanalino di coda, è stato ribadito più volte ieri anche durante l'incontro con il Ministro Garavaglia. Il Ministro Garavaglia ieri è stato molto bravo, non ha ragionato in termini di appartenenza politica, ma ha fatto il Ministro della Repubblica, quindi Ministro di tutti quanti i cittadini italiani. E ha dato davvero degli spunti molto interessanti, ha portato dei riferimenti importanti sui quali noi dobbiamo lavorare molto per incentivare il turismo nella nostra città. Mi è piaciuto molto perché ha visitato la cattedrale, ha voluto visitare la cattedrale, con grande interesse. E quindi noi confidiamo nel fatto che nel caso in cui dovessimo avere da capo la responsabilità della città, abbiamo dei riferimenti del Governo, tra i quali il Ministro del Turismo e anche, mi è piaciuto molto, anche il sottosegretario degli interni, Molteni, che ha portato una buona notizia nella nostra città, comunicando che ci saranno 40 assunzioni di poliziotti, di agenti di polizia e turismo e sicurezza urbana sono due argomenti molto correlati perché un buon turismo presuppone che ci sia anche sicurezza urbana. E questo è una bellissima notizia, sono due bellissime notizie per la nostra città e quindi io confido nel fatto che i cittadini abbiano compreso l'importanza di questi arrivi nella nostra città perché non si era mai visto nella nostra città un Ministro della Cultura, del Turismo e un sottosegretario agli interni a portare queste buone notizie per i cittadini di Barletta. Quando si parla di turismo molto spesso in questa campagna elettorale c'è una parola che è ricorrente, il coraggio, c'è chi dice che non si è avuto il coraggio prima di fare determinate scelte, lei però rivendica questo coraggio, parliamo dei grandi eventi anche che si sono svolgiti. Ho avuto coraggio, un sindaco non deve pensare a quello che gli può accadere, un sindaco deve pensare a quello che i cittadini pensano se lui non agisce e quindi io ho portato in città a Giovanotti un evento da 40-45 mila spettatori ed era impensabile per la nostra città accogliere 45 mila persone in un solo giorno, un'organizzazione pazzesca con grandissime responsabilità e credo che nessuno sarebbe stato capace di assumersi queste responsabilità. Abbiamo riportato in città il certame cavalleresco e nessuno ci credeva, abbiamo riportato la festa di San Cataldo e nessuno ci credeva, sono tutte quante eventi nei quali ci sono dei rischi molto importanti perché bastava per esempio che a Giovanotti accadesse qualcosa di grave che io sarei stato davvero massacrato dall'opinione pubblica, però io questo coraggio l'ho avuto e ce l'ho e lo metterò ancora in campo e continuerò a lavorare per la mia città assumendomi delle responsabilità, cosa che molto spesso i dirigenti dimenticano di fare perché la nostra cara dirigente, la nostra cara scommegna che è stata nominata, non è stata indicata, nominata, è stata voluta da una parte della politica barese, non ha avuto il coraggio di assumersi delle responsabilità, come questo per esempio quando lei fa un incontro, organizza un incontro nei giardini del castello sulla cultura e dimentica di invitare il sindaco che in quel momento è protempore e dice che lei è andata nei giardini perché doveva chiedere i soldi a Patruno e doveva chiedere i soldi a Filippo Caracciolo e si qualifica come dirigente del settore cultura dimenticando che esiste un sindaco che non è stato nemmeno invitato a quell'incontro e al quale non è stata nemmeno chiesta l'autorizzazione, essendo io il responsabile di quei giardini, non è stata nemmeno chiesta l'autorizzazione a fare quell'incontro, questa la dice tutta perché vuole dire che già in quella circostanza la nostra candidata scommegna era già pronta per candidarsi, per andare incontro a quella della sua aspirazione antica che è quella di fare il sindaco della nostra città. Questo quando si è svolto questo convegno? Questo si è svolto il 14 luglio 2020, siamo nella piena, dopo la festa della Madonna credo e il sindaco di questo come al solito veniva tenuto all'oscuro, come veniva tenuto all'oscuro anche dell'autorizzazione che lei ha dato alla Lidl, questi sono atti pubblici all'autorizzazione alla Lidl, così come anche la dottoressa scommegna mi deve spiegare, colgo l'occasione già che ieri non mi è stata data la possibilità in una trasmissione televisiva, che cosa vuole dire Barletta libera da K, questo lo deve spiegare, è da vincoli che l'hanno bloccata, chi ha bloccato Barletta, chi la tiene sotto il tacco la nostra città, questo è bene che lo spieghi, perché dire così, fare affermazioni in libertà non significa nulla, ma deve fare i nomi e i cognomi di chi tiene bloccata la città, io i nomi e i cognomi li faccio e sono sicuro che si tratta di un consigliere regionale che prende i voti da Barletta e che come dicevo prima, se li porta a Bari sul tavolo del mercato politico e della nostra città. Parlando di turismo, il pensiero o comunque non può che non andare ai giovani e dunque anche alle politiche dedicate ai giovani, che cosa chiedono i ragazzi? Perché so che avete incontrato anche molti ragazzi, molti giovani, chiedono spazi di aggregazione? Allora, intanto io sono davvero contento perché questa volta c'è una partecipazione di giovani alla campagna elettorale, si sono candidati molti giovani e molte donne anche giovani e questo è davvero un fatto positivo perché vuol dire che c'è un impegno politico da parte dei giovani, un interesse alla politica. I giovani chiedono intanto lavoro e uno dei motivi per i quali… Ma l'altro proprio ieri con il Ministro abbiamo anche parlato della questione lavorativa. Sì, del lavoro, infatti il Ministro ha fatto un'analisi molto precisa di alcuni paradossi, mentre si cerca lavoro in altri settori la richiesta di lavoro non viene… la ricerca di persone per il lavoro non si trova. Quindi vuol dire che, diceva il Ministro, che dobbiamo ragionare bene sull'orientamento scolastico perché non tutti devono fare gli avvocati, non tutti devono fare i medici, non tutti devono fare i commercialisti, ma c'è un settore del turismo che è molto promettente, dove c'è necessità di giovani formati, di giovani che sappiano parlare diverse lingue, di giovani che sappiano accogliere, di giovani che sappiano fare qualità. In giovani il mio obiettivo è quello di sconfiggere quel famoso nichilismo giovanile, perché mi impegno, perché devo studiare, perché devo essere persone per bene, perché devo… tanto poi alla fine non accadrà nulla, la politica è sempre quella che è, la politica non è tutta uguale, la politica è fatta di persone per bene che pensano al bene comune, purtroppo ci sono anche persone che al bene comune non pensano perché pensano soltanto al bene di se stessi e questo crea sfiducia, quindi io invito i giovani ad essere sempre più presenti nella campagna elettorale, nella città, nella vita politica della città. I giovani chiedono luoghi di aggregazione e noi siamo pronti per dare loro spazio fisico, per esempio dando loro quegli spazi che io ho voluto accogliere nella nostra città, quando c'è stata proposta appartamenti, terreni, opifici confiscati alla mafia, ci sono enormi, ci sono 4 milioni tra terreni e appartamenti locali che aspettano di essere abitati, vissuti dalle associazioni e sono contento perché si è formata la rete delle associazioni e quindi invito i giovani ad entrare in quelle associazioni per poter vivere quegli spazi e renderli funzionali e renderli motore di cultura, motore di formazione, motore di legalità, motore di coscienza civile, motore di convivenza pacifiche. Secondo lei quanto i cittadini sono sfiduciati? Perché il sentore, lo dicevamo anche all'inizio, è quello che ci sia sfiducia da parte dei cittadini alla politica, secondo lei come si può ricucire questo rapporto? I cittadini sono sfiduciati dalla politica perché la politica spesso li tradisce, io parlo di me, io non sono un uomo politico, io ho fatto per 45 anni il mio lavoro, credo dignitosamente, non ho mai fatto l'assessore, non ho mai fatto da consigliere comunale, sono stato sempre presente per dare il mio contributo politico alla città, le persone sono sfiduciate nel momento in cui vengono fatte loro delle promesse, promesse di lavoro, vengono fatte delle promesse che poi non vengono mantenute, oppure vedono che molti politici si interessano di fatti personali e non di fatti pubblici. Bisogna ridare loro fiducia? Io penso di aver di aver contribuito a dare loro questa fiducia, a restituire loro dignità e fiducia, come ho fatto? Aprendo molti cantieri che lavoro, anzi mi veniva rimproverato ieri che questi cantieri non li dovevo aprire, il sottovia di via a Milano non lo dovevo aprire perché gli ascensori non erano pronti. A proposito degli ascensori, voglio dire che sono 8 mesi che il commissario prefettizio ci sta provando, così come ci ho provato io, in realtà le cose sono così complicate che c'è difficoltà a mettere in funzione quegli ascensori, ma anche là mi è stato detto che non dovevo aprire il sottovia, quindi non dovevo dare possibilità ai cittadini dell'attraversamento. A questo proposito voglio dare tutta la mia solidarietà agli esercizi pubblici e commerciali ai cittadini e ai residenti di via a Milano, perché quella via, dopo quella chiusura del passaggio a livello non determinata da me, ma che faceva parte di un piano di eliminazione dei passaggi a livello da parte di RFI, quella strada è stata davvero massacrata, quindi noi dobbiamo pensare a come rivitalizzare quella strada, che è una strada storica, una strada molto importante nella nostra città. E quindi ritornando alla fiducia che noi dobbiamo dare ai cittadini, la dobbiamo dare con i fatti concreti, non con le chiacchiere, non con i voli pindarici e io questo stavo facendo, anche se l'apertura di quei cantieri ha determinato disagio a molti cittadini, però io ancora una volta voglio ricordare a chi mi accusa di aver aperto tanti cantieri, cosa strana, questo è il lavoro, che noi abbiamo messo la fibra, che è importantissima perché ci avvicina, ci mette in rete con tutto il mondo, con la fibra passiamo alla transizione al digitale, passiamo all'intelligenza artificiale, l'acquedotto sta sostituendo 25 chilometri di condotte idriche perché noi prendiamo ancora l'acqua dalle condotte del 1920, poi ci saranno ancora, l'Ener sta lavorando sostituendo 11 chilometri di energie elettriche, di potenziamento dalla rete elettrica per evitare i blackout, tutte strutture, tutti i servizi che da 25 anni erano in programma, che non si è avuto mai il coraggio di fare. Quindi torna la parola coraggio. Quindi il coraggio, così come ho avuto il coraggio di aprire i lavori, i cantieri di via Andria, di via Veneto, che nessuno ha avuto mai il coraggio di aprire, perché sapeva che avrebbe rischiato l'impopolarità, ripeto, io l'impopolarità me la sento addosso, però i cittadini di Barletta poi dovranno capire e capiranno che quei lavori sono strategici per il futuro della nostra città. Open fiber, l'infrastruttura per la fibra ad Andria o a Trani, non ce ne stanno, quindi noi siamo avvantaggiati, è vero che le strade sono dissestate. Tra l'altro la scommegna pretendeva che io andassi a fare il capocantiere e organizzassi da sindaco anche i lavori, dimenticando che c'era un dirigente che doveva organizzarli questi lavori. Il sindaco deve dare soltanto l'impulso a questi servizi strategici per la città, poi l'organizzazione del traffico, l'organizzazione della vita dei cittadini spetta ai dirigenti. Lei dimentica spesso di essere stata un dirigente e se poi, la voglio dire tutta, ha fatto il dirigente fino a fine gennaio, pur sapendo che era candidato sindaco, da tempo ha continuato a fare la dirigente evidentemente per poter operare in termini di possibilità di acquisizione del consenso. Parlando di consenso, un'ultima domanda perché il nostro tempo a disposizione è terminato, perché i cittadini di Barletta dovrebbero ridare fiducia a Cosimo Cagnito e alla sua coalizione? Perché io voglio bene la mia città, perché mi sono impegnato fino allo spasimo delle mie forze per questa mia amata città, perché voglio bene i cittadini, con loro ci dialogo, sono alla pari, non mi sono mai sentito un diverso e un superiore, come qualcuno ha sempre pensato di essere. Io sono una persona che non deve onorare cambiari elettorali, non ho debiti di riconoscenza nei confronti di nessuno, sono una persona libera e non ho sudditanze psicologiche nei confronti dei potentati politici locali e regionali, che amo sfidare anche quando non fanno il bene della nostra città. Io voglio continuare a fare il sindaco della mia città, non per essere importante, ma per essere utile alla mia città. Parla per me il mio vissuto umano, politico, che rivendico sempre, professionale, sociale e parla per me il mio curriculum. Il mio curriculum che non può essere assolutamente messo alla pari di questa, della candidata sindaco e quindi parla per me la mia vita. Per questo io amo questa città e credo di essere amato dei cittadini. Allora grazie al candidato sindaco Cosimo Cannito per essere stato nostro ospite. grazie a voi per l'invito e grazie a voi che avete seguito da casa questo nuovo appuntamento con InVideo Veritas.